Ciao a tutti bulli e pupe, oggi essendo venerdì santo ho approfittato dal fatto che abbiamo chiuso prima l'ufficio per andare a fare un giro in un centro commerciale e ovviamente ho fatto acquisti da Kiko Allora, oggi, se non sbaglio fino a fine mese, c'è la promozione che acquistando 6 prodotti i 3 meno costosi sono in omaggio e quindi perché non approfittarne? Allora, ho trovato tra l'altro anche la nuova collezione in edizione limitata di smalti con gli effetti un po' particolari io ne ho preso solo uno Allora, iniziamo dagli smalti, perché ne ho presi? Allora, quello in edizione limitata è questo qui Come potete vedere ha delle particelle un po' più piccole e un po' più grandi che potete usare o come sbalto da solo oppure come top coat Queste sono di colore rosino, bianco e verdino e mi ricorda molto uno della Dior C'erano quattro colorazioni, mi sembra questo rosa, verde e azzurro Ho preso questo perché mi sembrava quello un po' più neutrale che può andare bene su tutti i tipi di smalto Poi ho preso due smalti di Power Pro due colorazioni un po' naturali perché sinceramente non ne avevo molti Allora, uno è lo 03, che è questo e l'altro è il numero 28 questo, un rosa un po' più carico Poi, questi costavano 4,90 e questi sono quelli che alla fine mi sono venuti in omaggio perché erano i prodotti meno costosi Poi, ho preso dalla collezione Collezione, come si chiama? Color Artist, se non sbaglio Ho voluto prendere questo blush che è il numero 2, Ingenious Move che è quello che indosso perché la commessa me l'ha provato Questo è il packaging e questa è la colorazione E poi ho voluto prendere, sempre dalla stessa collezione un rossetto e una matita abbinati Questi sono il numero 05 Non ve li swatcho perché avevo intenzione di regalarli Questi rossetti sono quelli con il click system che premete ed esce Allora, il rossetto è questo che anche lui è un rosa malva uno dei miei tipici colori e la sua matita abbinata è questa Oltretutto, oltre ai tre prodotti in omaggio avendo raggiunto i 2000 punti ho potuto usufruire dallo sconto di 10 euro Quindi, su una spesa totale di 37,40 euro alla fine ho pagato 12,70 euro Direi che questo giro mi è proprio andata bene E con questo ho finito Faccio gli auguri di Buona Pasqua a tutti Vi mando un bacione e alla prossima Ciao!